M. Amicioli, 1-0-0, bugiardo, poteva essere anche ricco di gol questo incontro? Sì, perché hanno avuto anche loro qualche occasione, come l'abbiamo avuta noi, d'altronde non si è riusciti a far gol, perciò è finita 0-0, però credo che sia stata una partita entusiasmante, nel senso che anche la gente credo che si sia divertita, per come è stata fatta da parte di tutte e due le squadre. È vero che noi l'ultima occasione potevamo fare la nostra, potevamo vincerla e non avremmo rubato nulla, però anche loro comunque hanno fatto la loro partita. Sui gol annullati, mister? Beh, adesso non sto a sindacare sul gol annullati, perché poi li vedi all'ultimo istante, magari è stata vista una spinta dall'arbitro, l'arbitro ha visto così, io non cerco mai, non vado mai a cercare di giudicare gli arbitri, hanno visto così e lasciamo stare così ed è giusto così. Un Urbagna che ha raggiunto l'ennesimo risultato utile e positivo di questo rigiurone di ritorno, ora l'aspetta forse la partita, diciamo così, determinante? Ma noi credo che fino ad adesso abbiamo giocato tutte le partite determinanti, è logico che più si avvicina al traguardo della fine campionato e più sono importanti. Sabato sappiamo di andare a giocare una partita difficilissima, in un campo difficile dove è uno scontro salvezza, dovremmo essere bravi, maturi di andare a fare una grossissima partita e cercare di fare risultato a tutti i costi. Mister, è uno 0-0 piacevole, però è stato 0-0. Sì, noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo oggi per vincere la partita, abbiamo qualche giocatore che rientrava da qualche infortunio, qualcun anno non era, abbiamo dei giocatori non al meglio della condizione e oggi per vincere qui forse c'era bisogno che tutti eravamo al 100%, però credo che è stata una buona partita, sulla prestazione sono soddisfatto perché non volevamo dare ripartenza all'Urbagna che sappiamo dove possono far male, l'abbiamo fatto bene, sono state occasioni da una parte o dall'altra e, ripeto, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non ci siamo riusciti, ma il campionato non finisce oggi. Ma lei come la vede nel proseguo? No, noi lotteremo fino alla fine, sappiamo che dobbiamo recuperare, chiaramente adesso la stagione giustese è favorita perché è a 4 punti in più, ma noi lotteremo fino alla fine e credo che da qui alla fine possa succedere di tutto, 4 punti in 6 partite sono tanti e sono pochi, noi, ripeto, da parte nostra dobbiamo lottare fino alla fine, solo che è un po' singolare, ripeto, il fatto che soprattutto in ogni trasferta venga assegnato due calci di rigore, addirittura tre calci di rigore, come è successo all'Oreto, sono un po' tanti, oggi sono stati insomma dei episodi dubbi in area dell'Urbagna con due falli di mano che poteva essere fischiato anche il calcio di rigore, non era uno scandalo, si poteva fischiare o non fischiare, non ce l'ha fischiato, con questo, ripeto, a me non piace chi fa polemica, soprattutto a livello arbitrale, però è una situazione abbastanza singolare. Ok, la ringrazio molto, Misa. Prima.